Gianfranco Lombezzi, il presidente della Commercio Valtiberina Toscana. Lombezzi, c'è area di crisi? C'è area di crisi, non ci si può nascondere, i dati sono dati regionali, locali, nazionali, quindi inutile stare a nascondersi dietro a un dito. È una crisi strana perché è una crisi che va a toccare il settore commercio in una maniera differenziata, mi spiego meglio. Ci sono dei prodotti che stanno andando e dei prodotti che sono assolutamente fermi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese si sono trovate anche particolarmente impreparate perché non ti aspetti che sia fermo una serie di prodotti che siano totalmente fermi e una o due serie di prodotti che stanno andando via bene. Quelli che chiaramente sono andati via bene e sono finiti, rimangono quell'altro. E quindi che succede? Succede che la liquidità alla fine non è quella che tu si avresti aspettato perché quello che è fermo chiaramente poi alla fine lo devi pagare. È una crisi che purtroppo sarà lunga, inevitabile, però è anche vero che bisogna dare un segnale un pochettino di ottimismo un pochettino di voglia di cambiarlo perché tutto questo piangiasci addosso alla fine non credo che porti poi a nessuno del bene. Anche quando stai male, se hai un pensiero positivo sicuramente ti fa uscire un pochettino meglio dalla tua situazione. Quindi il nostro consiglio, la nostra richiesta è che cerchiamo di essere tutti un pochettino più positivi. Se abbiamo due spiccioli per questo periodo cerchiamo di spendere nella maniera giusta, nella maniera più oculata, è evidente non fare cose pazze, però spendiamoli. Spendiamoli questi soldi, facciamo sì che un pochettino girino nel limite delle possibilità di ognuno, è evidente, non si chiede a nessuno di fare cose impossibili, però regaliamoci qualcosa per Natale, regaliamo qualcosa per Natale, tiriamo fuori a meno in questo periodo che deve essere un periodo di ottimismo, di un pochettino di serenità, anche nel nostro cuore portiamo dietro un po' di serenità, un pochino di ottimismo e forse riusciamo a affrontare il 2009 se non altro con una visione diversa. Lombezzi, noi stiamo vedendo tantissime vendite promozionali, nei paesi anglosassoni i saldi iniziano il 23 di dicembre, ma potrebbe essere una soluzione? Io sono per una correttezza commerciale tutto l'anno, 365 giorni l'anno e io spiego anche per quale motivo, nessuno riesce a fare i miracoli. Se io mi metto a vendere un prodotto a un prezzo particolare, per far bilanciare il quadro dell'azienda bisogna che qualche artificio lo faccia, perché non è possibile vendere tutto l'anno o comunque vendere spesso e volentieri con un sistema di prezzi ribassati. Allora io che dico, facciamo dei prezzi tutti quanti sempre il più possibile vicini a quelle che sono le necessità del cliente, cerchiamo di metterci una mano sul cuore e nell'ambito di tutti questi aumenti che anche le aziende commerciali hanno, cerchiamo di dare un prodotto a un prezzo migliore tutto l'anno. Grazie a tutti.